vero ragazzi bentornati e benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere una piccola morning routine che ci laviamo i denti insieme a me faremo una piccola colizia del viso che me li faccio super giù due tre volte a settimana e vi faccio vedere la colazione quindi direi di iniziare mi lavo un attimo i denti e poi ci vediamo un po dopo avermi lavato i denti iniziamo con la pulizia del viso in pratica serve se magari non hai con la pelle pulita e ci sono tipo dei puntini neri piccoli prima ci andiamo a lavare la faccia con acqua calda poi lo andiamo pure a bagnarlo e poi continuiamo il processo facciamo riscaldare l'acqua comunque stavo dicendo quando noi andiamo a usare questo prodotto lo andiamo a massaggiare in tutta la faccia un'altra parte Ok, dopo aver messo in tutta la faccia il prodotto, andiamo a massaggiare con le mani. Devo mandare la parte dell'occhio, non si mette, però sto attenta. Andiamo a cercare la faccia. Ora la pelle non è solo liscia, ma la sento anche pulita. Dopo aver asciugato la faccia, mettiamo della L'Oreal Paris, della Revitalist, un po' di crema. Grazie. Andiamo ora a massaggiarlo Poi usiamo un deep balm al gusto raspberry Secondo l'apparecchio lo sto usando molto Le mie labbra si asciugano quindi E' l'unica cosa che mi poteva aiutare Comunque ragazzi da qui abbiamo finito e passiamo alla cucina Come colazione mi sono fatta dei musli con un po' di caffè e latte Sono questi sono biologici e sono cioccolato questi musli Ho messo 80 grammi di musli E niente quindi da qui vorrei dire buona colazione a me Ragazzi è finito di fare colazione Ho pulito anche tutte le cose che ho messo in mezzo Comunque vi volevo augurare buon Natale Buon nuovo anno Spero che entrate in un nuovo anno bene Con tanta felicità e amore E da qui vi mando un grosso bacio Mettete like, seguitici se ancora non l'avete fatto Aggiungete la campanella E scrivete nei commenti cosa vorrei c'è nel nuovo video Ciao